Ciao, ciao ragazzi, come va? Una live un po' improvvisata, ma molto molto importante perché ragazzi stiamo raggiungendo dei traguardi incredibili, infatti siamo arrivati, abbiamo distrutto o stiamo distruggendo il muro dei 200.000 euro raccolti in solo due giorni e per questo vi devo davvero ringraziare perché è un traguardo incredibile che non mi sarei mai aspettato, va oltre ogni più rosa previsione che avevamo su questa raccolta. Mi fa ovviamente molto molto piacere perché vuol dire che evidentemente il progetto è piaciuto e si riconosce anche la professionalità che c'è dietro questo progetto e quindi sono davvero davvero contento e andiamo a vedere insieme se abbiamo sfondato il muro dei 200.000 euro perché stavamo a 199.000 fino a qualche minuto fa. Vediamo un attimino... Oh, cosa succede? No, 199.500. Mancano solo 500 euro per arrivare a 200.000 euro. Il nostro amico Salvatore dice in minguccio we trust, il diminutivo di Domenico in dialetto. Perché è di Barletta questo? Eh, non lo so se è di Barletta, però da qualche parte l'avvicino che sarà... Grande Pasquale 200.000, ma siamo arrivati? Vediamo un po'? No, 1.000, mancano ancora 500 euro. Mancano 500 euro, ragazzi, no. Adesso rimaniamo qui fino a quando non vengono investiti. I 500 euro che mancano per arrivare a 200.000. Dai, è grande. Ah, vedi, è di Bari, sa bene. Allora, ne approfitto, in attesa delle vostre domande, ne approfitto per rispondere a qualcosa che... diciamo, tra le domande più frequenti che mi state facendo in questo periodo, che ho visto anche sul gruppo Telegram e quant'altro. Allora, mi raccomando, la detrazione IRPEF, quindi 50% di detrazione IRPEF o 30%, la si ottiene in un'unica soluzione nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, che è fatta nel 2022, quindi relativa al 2021 dove avete fatto l'investimento. Quindi, adesso, in questo momento, tutti quanti prendono la detrazione al 50%, tutti quelli che investono in questo momento. E questo è valido fino al raggiungimento della soia di 400.000 euro. Dopo i 400.000 euro, comunque, si prende il 30%, che sono sempre tanti, tanti soldi. Investendo 1.000 euro, ti porti a casa 500 euro o 300 euro. Investendo 10.000 euro, ti porti a casa 5.000 euro o 3.000 euro. E questa, essendo una detrazione, è un ritorno certo, sicuro al 100% garantito dallo Stato. Te lo porti in detrazione IRPEF. Quindi, un investimento di 10.000 euro, tu nel 2022 ti riporti a casa 5.000, quindi hai guadagnato, tra virgolette, il 50%, sicuro, certo, garantito dallo Stato, il 50% in un anno, quindi è già tantissimo, o il 30% in un anno è tantissimo uguale. E, oltre a questo, poi, ovviamente, c'è tutto l'investimento che va avanti con il nostro progetto. Quindi, se le cose vanno come devono andare, avremo un buon guadagno anche dal progetto, ovviamente. Quindi, questo è importante, mi raccomando, è detrazione IRPEF, quindi dovete, ovviamente, pagare l'IRPEF. Tutti i lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori autonomi pagano l'IRPEF. Ah, vedi, infatti, Cesare, che invece è una partita IVA, ma in regime forfettario, non ha l'IRPEF da pagare, o meglio, l'IRPEF, la sua è standard, è forfettaria, e quindi non si può portare in detrazione queste cose, anche se non sono così convinto, perché tu nel forfettario i costi non ti puoi portare in detrazione, ma tu l'IRPEF, Cesare, mi sai che la paghi e controlla questa cosa, lo sai? Perché i costi del forfettario, tu non ti puoi scaricare gli altri costi, ma l'IRPEF è da controllare questa cosa, bisogna chiederla al commercialista. Domenico ho letto che non è possibile avere la detrazione del 30-50% sul 7,30, ma solo sull'unico, vero? Assolutamente sì. Sul modello 7,30 non c'è lo spazio per richiedere questa detrazione, bisogna farlo con il modello unico. Io in realtà avevo chiesto al commercialista, allo studio Allivi, che magari conoscete su nostri social, anche loro, e anche a Carlo Alberto Micheli, di fare un video dedicato a questa cosa qui per spiegare come si ottiene la detrazione IRPEF, la procedura da seguire, tutti i vincoli e quant'altro di qua e di là, però in realtà nessuno dei due me l'ha ancora fatto, quindi speriamo che prima o poi lo facciano e vediamo un attimino. Almeno ci sono delle indicazioni chiare per tutti, senza nessun problema, però tendenzialmente non dovrebbe essere una cosa difficile e difficoltosa, comunque su We Are Starting, che è la piattaforma sulla quale stiamo facendo il crowdfunding, trovate tutte queste informazioni, oppure se gli mandate una mail e chiedete, loro vi danno tutte le indicazioni sulle cose da fare, sulle procedure, e qualsiasi cosa. Un altro aspetto importantissimo che mi state chiedendo in tanti è l'intestazione conto terzi. Sembra una brutta parola, ma in realtà è una cosa molto, 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 molto utile, è una cosa che di default va già in automatico, la paghiamo noi di Newit, quindi per voi è completamente gratuita. E come funziona? Fatela, è un consiglio, cioè fatela, perché è utilissima un domani, se volete rivendere le vostre quote che oggi state comprando oggi, le volete rivendere, con l'intestazione conto terzi evitate di fare l'atto dal notaio o l'atto dal commercialista, potete venderle direttamente con una trattativa tra privati e gratuitamente. Perché succede questo? Perché c'è una collaborazione tra We Are Starting e Directasim, quindi cosa succede? Che domenico, io l'ho fatto perché l'ho fatto, ho investito in una startup qualche mese fa, vi racconto quello che è successo a me, quindi. Io ho fatto l'investimento, ho fatto il bonifico, poi avete tutte le comunicazioni che vi manda We Are Starting, e in automatico c'è appunto la procedura che vi guida ad aprire un conto su Directasim, anche questo è gratuito, non vi preoccupate. Quindi io ho aperto il conto in Directasim, io ho un conto in Directasim che l'ho aperto quando ho fatto questo investimento in startup, quindi ho seguito la procedura, ho aperto il conto in Directasim, e quindi adesso le mie quote che ho comprato in quella startup, cosa è successo? Nel registro delle imprese esce il nome Directasim, non esce il nome Domenico Doronzo, quindi esce il nome Directasim, e poi all'interno di Directasim c'è una sottorubrica che associa quelle quote a Domenico Doronzo. Quindi nel caso domani io voglio vendere queste quote a Maria Chiara, e Maria Chiara ha un conto in Directasim, semplicemente noi comunichiamo a Directasim che il passaggio di quelle quote non saranno più in carico a Domenico Doronzo, ma saranno in carico a Maria Chiara. Quindi questo passaggio è all'interno di Directasim, non va ad inficiare il cambio del nominativo in camera di commercio, e quindi è completamente gratuito. Non ci vuole il notaio, non ci vuole il commercialista, e si fa tranquillamente, gratuitamente. Quindi mi raccomando, ripeto, di default questa internazione del conto terzi va in automatico. è gratuita perché la paghiamo noi di Newit, e che altro? E fatela, ovviamente. Quanto sei arrivato? Te l'hanno dato? 500 euro. Vediamo un po' se ci hanno dato... 500 euro. Vediamo un po' se ci siamo arrivati con i 500 euro. No, niente. Mancano ancora 500 euro. Ma praticamente com'è che funziona? Io faccio il bonifico in automatico, no? Ci vorranno... No, vabbè, quando tu dici voglio investire, già lì nel contatore te lo segna. Però poi sotto, sempre nel contatore sotto, c'è scritto quanti sono stati già versati col bonifico e quanti sono ancora in attesa di bonifico. E di esempio, lì quanti sono in attesa del bonifico? In questo momento ci sono stati già versati, aspetta che mi devo collegare per vederlo. Quindi, non capito. Vediamo un po'. Quindi praticamente sono l'eula. Ah, vedi, in questo momento sono in attesa, quindi devono essere ancora versati 154 mila euro. Vuol dire che 40 mila euro sono già stati bonificati. 45 mila euro, in realtà. 45 mila euro sono stati già bonificati e gli altri stanno aspettando il bonifico. E noi invece stiamo aspettando che qualcuno... Sicuramente 500 mila euro. Sì, investa gli ultimi 500 euro per arrivare a 200 mila. Mancano solo 500 euro. Va bene. Allora... Intanto puoi chiedere una cosa? Dimmi. Se qualcuno ha comprato un zaino da mountain trekking... Ma che c'entra? Magari viene da tutta questa gente, qualcuno non ci sa come rispondo. Ho da poco pagato le tasse capital gain. Sai dirmi perché, visto che i dividendi sono già tassati... No, il dividendo... Ah, se tu hai un broker italiano, il dividendo ti arriva già tassato. Quel capital gain forse hai venduto qualche azione in guadagno. Di cosa si occupa il progetto? Ah, quindi di che cosa si occupa Newit? Qual è il senso di avere Newit nel mondo? Il senso è questo. Newit ha lo scopo di investire nelle aziende italiane, quelle medio-piccole ovviamente. Quindi le aziende che hanno bisogno anche di investimenti, hanno bisogno di soldi per ampliare i loro progetti, per ampliare il loro business, per creare posti di lavoro poi. e quindi abbiamo creato questo veicolo proprio per questo, diciamo, ha questo scopo sociale, perché altrimenti, diciamo, per come vedo io il mondo, è inutile fare delle cose se non servono, se sono inutili. Quindi ha effettivamente uno scopo sociale. Poi va ovviamente ad avere anche uno scopo pratico, ad unire le esigenze delle investiture che magari hai soldi in banca, fermi, che non sai che cosa farne, e in questo modo può investirli e può farli fruttare. Dall'altra parte ci sono le aziende che invece hanno bisogno dei soldi per creare posti di lavoro e quindi è un circolo virtuoso che si autoalimenta, perché l'investitore dà i soldi all'impresa, l'impresa crea business, crea posti di lavoro, magari per l'investitore stesso o per i figli dell'investitore, o che so io, cresce l'economia, le persone guadagnano di più, hanno più soldi, possono investire più soldi e quindi possono dare più soldi alle imprese. E quindi è un circolo virtuoso che fa il bene del nostro paese, sostanzialmente, dell'economia reale. Quindi questo è il senso del progetto. Perché c'è bisogno di una realtà come New Italy, le persone non se lo possono fare da sole? Semplicemente perché, mentre tu se vai ad investire nelle grandi aziende come Eni, Enel, Intesa San Paolo, Leonardo, Autogrill, te lo puoi fare tranquillamente da solo, quando si tratta di aziende più piccoline che sono quotate nell'AIM Italia, dove c'è un vincolo di minimo 3.000 euro come l'otto minimo, oppure nelle start-up dove è difficile andare a capire se veramente l'investimento è buono, non è buono, c'è un alto livello di rischio e così via, il debito alle imprese. Quindi sono delle cose molto, diciamo, più tecniche, un po' più specifiche, un po' più particolari che per le investiture retail sono molto difficili da fare e soprattutto sono delle cose sulle quali ci vorrebbe tanto capitale per fare una cosa del genere. E quindi cosa succede? Un veicolo come Newit permette ad un investitore anche con 500, 1000 euro, 10.000 euro di investire in un unico veicolo che automaticamente gli dà la diversificazione su tre asset class diverse, quindi le aziende quotate in borsa, le start-up, il debito alle imprese e soprattutto si avvale della professionalità che sta dietro questo progetto. Perché dico che c'è della professionalità? Non perché c'è Domenico, ma perché abbiamo fatto una collaborazione, Newit fa una collaborazione con tre aziende, quindi una per ogni asset class. Per investire nelle aziende quotate in borsa abbiamo la collaborazione con Up Consulting, per investire nelle start-up abbiamo la collaborazione con WeAreStarting, per investire nel debito alle imprese abbiamo la collaborazione con Eventfee Ex Cryptalia. Quindi c'è un'azienda professionista specifica su quella asset class che collabora al progetto di Newit per portare la professionalità sugli investimenti. Dimmi se ho risposto alla tua domanda. Se si fanno gli investimenti in borsa è obbligatorio aprire partita IVA? Assolutamente no. Gli investimenti in borsa non c'entrano nulla con la partita IVA. In sostanza, fate prestiti a piccole e medie imprese. No, una delle tre cose che facciamo sono i prestiti, le altre due cose sono investire in azioni delle imprese, che possono essere azioni quotate in borsa o azioni non quotate come quelle delle start-up. Allora, ho letto ho appena rinnovato la sub gratuita su Twitch. Una domanda, secondo te a che prezzo può arrivare Gazprom? Non lo so, non lo so a che prezzo può arrivare Gazprom. l'ho vista qualche giorno fa, stava già a 9 euro. Io in realtà l'ho venduta un po' di tempo fa perché avevo bisogno dei soldi per fare l'altro progetto che ora deve partire, ovvero sapete che qualche settimana fa ho firmato un compromesso per l'acquisto di un nuovo immobile e quindi mi servono i soldi appunto per comprare questo nuovo immobile. Quindi io in realtà sono uscito. Non so quanto potrà essere il massimo del prezzo che può arrivare, però ragazzi adesso stiamo parlando di speculazione sul prezzo del gas naturale. Quindi da investitore direi che adesso che è salito così tanto il gas prima o poi dovrà scendere quindi anche Gazprom prima o poi mi aspetto che ritorni giù il prezzo. Quindi diciamo se tu sei un trader va bene oggi entrare su Gazprom entrare su Inni e cercare di sfruttare la salita. Se tu sei un investitore di lungo periodo attenzione perché ora sta la parte alta del ciclo e poi tornerà la parte bassa del ciclo. Quindi puoi essere un'idea a vendere durante la parte alta del ciclo e poi andare a ricomprare quando saremo nella parte bassa del ciclo. Domanda come vengono selezionate le aziende in cui investe in UIT ottima domanda allora per evitare conflitti di interesse abbiamo strutturato un livello decisionale un doppio livello decisionale quindi cosa abbiamo nel primo livello abbiamo l'advisory board che è costituito da quelle tre aziende partner di cui vi parlavo e nello specifico materialmente ci saranno gli amministratori delegati di queste tre aziende quindi ci sarà Carlo Allievi per le start up Anton Giulio Marti per l'investimento in borsa e Diego Dalciro per l'investimento nel debito loro con le loro aziende dato che già fanno un lavoro di analisi e selezione possono dire ok abbiamo selezionato questi cinque progetti abbiamo selezionato questi dieci progetti dieci aziende che sono per noi le migliori quindi loro fanno un lavoro di selezione di analisi e selezione e poi passano queste questo basket di aziende questo bacino di aziende a livello successivo al consiglio di amministrazione sarà il consiglio di amministrazione che poi decidi ok investo soldi in questa azienda investo su tutte le aziende investo solo su un'azienda perché questo perché ovviamente così non c'è più conflitto di interesse ovvero il primo livello fa l'analisi e la selezione però non decide lui dove investire quindi non può dire ok voglio investire qui dice io propongo dieci aziende ma non è lui che può decidere dove investire il livello superiore è lo stesso può decidere solo tra le dieci aziende che gli sono state proposte quindi può decidere solo appunto la parte strategica quanti soldi mettere su ogni azienda se metterle su tutto se metterle solo su qualcuna ma non può visto che già decide quanti soldi mettere non può decidere dove metterli nel complesso quindi doppio livello di analisi e doppio livello di controllo se vogliamo quindi questo è il il processo dimmi se ti ho risposto Francesco allora ok grazie ma i rendimenti riportati sul vostro sito del 72% è attendibile? se tu cioè come è stato calcolato c'è uno storico? ok sì assolutamente sì allora quel rendimento del 72% se tu leggi sotto c'è scritto è fatto su un periodo temporale di 10 anni e con un portafoglio target diciamo con 60% azionario 25% start up 15% debito alle imprese quindi noi che abbiamo fatto? stiamo andati a prendere lo storico dei rendimenti dei rendimenti delle azioni delle start up e del debito alle imprese mixato ovviamente nelle proporzioni 60% 25% 15% e c'è venuto fuori quella forchetta la forchetta l'abbiamo messa più ampia ovvero abbiamo messo una forchetta dal 72% al 130% che annualmente vuol dire 7% 13% perché abbiamo messo una forchetta? perché ovviamente siccome lo storico non ci dice nulla su quello che sarà il futuro ovviamente noi abbiamo messo una forchetta per dare un minimo di flessibilità alla cosa e secondo ripeto sicuramente dato che lo storico non ci dice nulla sul futuro tu mi dici è attendibile è una tra argolette previsione un'aspettativa noi non sappiamo se faremo il 15 l'80 il 200% dipende da come andranno i mercati e dalla nostra abilità e professionalità nel fare gli investimenti quello serve solo per dare un'indicazione di massima in base allo storico bentornato domenico mi fa piacere che stai moltissimo sui social ultimamente allora in realtà ho fatto due mesi di ferie mi sono un attimino fermato quindi anche sui social c'ero effettivamente un po' meno su youtube non mi hanno visto per due mesi non ho fatto più un video per due mesi però se adesso siamo rientrati vedete la location siamo tornati su Torino e quindi è ripresa un po' la routine un po' più normale anche se devo dire onestamente ho rallentato parecchio perché cerco di non stare più di mezza giornata lì sul computer l'altra mezza giornata la dedico alla bimba quindi faccio per metà il papà e per metà l'imprenditura digitale grande investiro ciao come va? faremo un video insieme tra l'altro con investiro quindi raga si vede che sei appassionatissimo di questo lavoro si è vero no altrimenti non lo farei altrimenti non ci avrebbe proprio senso nel senso mi sono licenziato già da una parte e ora non mi metto a fare una cosa che non mi piace quindi lo faccio proprio perché perché mi piace l'altra sera stavo con Chiara prima di andare a dormire e gli faccio adesso mi sono messo in testa che devo portare il new hit a quotarsi in borsa quindi adesso nei prossimi anni devo fare quello sei contenta amore? si è contenta ragazzi vediamo siamo arrivati a 200.000 euro o no ma non è possibile ragazzi ci metto io 500 euro dammi le coordinate per favore andate a mettere 500 euro se no non finiamo più con sta live dobbiamo arrivare a 200.000 dai stiamo a 199.500 mancano 500 euro per arrivare a 200.000 dai ce la facciamo ah però vedi mi dicono che sono pure bravo capito quindi c'è almeno quello dice almeno almeno dai cosa mi stavo dicendo la niente quindi facciamo un sorsetto d'acqua ah poi dato che ci siamo ci tengo a ringraziare chi è? piange la bimba ci tengo a ringraziare tutte le le persone che mi stanno aiutando su su questo progetto anche gli altri canali youtube che hanno che mi stanno che mi stanno aiutando vedete che vi sto ripostando sul sul mio canale youtube le i video che gli altri ragazzi stanno stanno facendo tantissimi gli ho parlato del progetto gli ho spiegato il progetto gli è piaciuto e quindi hanno stanno dando un contributo al progetto si semplicemente parlandone senza fare nulla di trascendentale semplicemente condividendo e facendolo conoscere cioè senza fare né pubblicità né nulla ma semplicemente facendolo conoscere quindi ci tengo a ringraziare chi ha già fatto chi ha già fatto i video oggi c'è stato quello di Silvio Luppi c'era stato precedentemente quello di Francesco Castellano comunque ve li ve li sto postando man mano sul mio sul mio canale youtube ciao grande domenico l'acquisto delle quote si deve sostenere dei costi annuali bolli o altro no 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 assolutamente niente una volta che avete comprato le quote non vi costa nulla non è come le azioni che ci sono i bolli o ci sono nulla nulla di particolare comprando le quote diventate semplicemente soci di una srl di newit srl quindi non ha nessun costo aggiuntivo nessun costo di mantenimento nulla di nulla ciao doc complimenti per il risultato di raccolta dai che il milione non è lontano in realtà in questa raccolta che chiuderà il 4 dicembre l'obiettivo massimo che abbiamo messo è 600 mila euro quindi se raggiungiamo i 600 mila euro si chiude si chiude la raccolta perché l'aumento di capitale che abbiamo fatto è fino a 600 mila euro però già se raggiungessimo 600 mila euro sarebbe fantastico diciamo completeremmo al 100% la nostra raccolta sarebbe una gran cosa ciao Antonello come va? hai risolto Antonello il problema che ci avevi per l'investimento? investito io o familiare? cioè tu è un familiare? non ho capito ciao Marco sei ancora al mare? no siamo tornati a Torino siamo tornati a Torino da qualche da qualche settimana da inizio settembre in realtà è un mese no siamo tornati 10-12 settembre quindi siamo suci di una holding di investimento giusto? non propriamente non tecnicamente corretto siamo suci di Newit SRL Newit SRL tecnicamente non è una holding di investimento attenzione Newit SRL è una società di sviluppo software che ha la struttura patrimoniale come una holding di investimento ma quella è una soluzione di business che lasciatevi dire mi sono inventato io cioè che è un mio modello di portare avanti il business ma Newit lavora su due gambe lavora sullo sviluppo software e la adesso tra l'altro stiamo registrando l'app che abbiamo già sviluppato money plan che la potete scaricare gratuita la stiamo registrando alla CIA ovviamente sotto il nome di Newit quindi Newit ha lo sviluppo software e poi ha la struttura patrimoniale come una holding di investimento per questo siamo una startup innovativa comunque sì siamo suci tutti quelli come tutti quelli che hanno investito su Newit SRL Antonello sì mi hanno ah ok mi hanno risposto subito la moglie non riesce a stare ferma no c'è la bimba che piangeva adesso gli sta andando da mangiare allora Nadia grande grande perché diciamo la presenza delle donne in in questi social è sempre molto risicata quindi ogni tanto che ce n'è qualcuna ci fa sempre piacere ciao scusa mi spieghi che ho visto solo ora il video mi interessa sì guarda Nadia se vuoi c'è sia il sito www.newit.online e trovi tutte le spiegazioni o sul canale youtube ci sono diversi video su Newit che spiegano tutto quanto comunque come stavo dicendo Newit è una startup che appunto lavora su due gambe uno sviluppo software di investimento l'altro una struttura patrimoniale che lavora come se fosse una holding di investimento quindi lo scopo è quello di lo scopo è quello di unire quelle che sono le esigenze degli investitori che magari hanno i soldi fermi in banca non sanno cosa farne e quant'altro alle esigenze delle piccole medie imprese italiane o delle startup italiane che magari hanno bisogno di essere di avere i finanziamenti per espandere il loro business per creare posti di lavoro e quindi l'idea è proprio quella di attivare questi circoli virtuosi dove l'investitore investe nelle aziende quindi ha sia il guadagno come investitore sia permette alle aziende di sviluppare il business e creare posti di lavoro creare posti di lavoro sia per lui per i suoi figli per tutti quanti quindi tutti quanti saranno più ricchi avranno più soldi e possono investire di più nelle imprese che continueranno a crescere ed è un modo virtuoso per fare crescere la nostra realtà l'economia reale italiana quella dove viviamo la nostra vita di tutti i giorni quindi questo è il senso di Newit e come dicevamo all'inizio questa cosa un investitore da solo non riesce a farla perché se tu vai a investire come dicevamo nelle grandi aziende come in Tisa San Paolo Ini, Enel te lo puoi fare da solo ma quando vai ad investire nelle realtà più piccoline è più difficile cioè un investitore normale non ha le competenze per fare questi investimenti e non ha neanche i capitali per fare questi investimenti e quindi una soluzione come la nostra permette appunto di andare a unire queste esigenze quindi un investitore che ha mille euro cinque mila euro dici mila euro investendo su Newit automaticamente si trova la sua diversificazione su queste aziende e dà il suo contributo permette di dare i soldi a queste aziende e di avere lui poi ovviamente il vantaggio come investitore mi chiedono Newit fa trading no Newit non fa trading io non faccio trading non sono un trader Newit fa investimenti noi vogliamo aiutare l'economia reale e come stavo dicendo adesso non vogliamo andare lì a fare la speculazione no noi andiamo a selezionare le aziende a lavorare insieme ai manager delle aziende a creare sinergie tra le aziende quindi a fare crescere l'impresa a fare crescere l'attività perché è quella la cosa importante creare posti di lavoro fare crescere le imprese e questo farà darà modo sia all'investitore di guadagnare sia alle aziende di crescere creare qualcosa di utile creare un vino valore aggiunto per l'Italia fare trading non crea valore aggiunto fa guadagnare chi il trader ma non crea nessun valore per tutti quanti e non è la mia non è la mia filosofia quindi Newit non fa non fa trading quindi alla prima riunione devi prendere un palazzetto quando ti candidi a Roma che ti vuoto dubito il prossimo anno candidato a Roma fantastico ma a Roma ma a Roma voi vabbè 30 secondi di tribuna politica a Roma voi avevate calenda io se fossi stato a Roma avrei votato calenda allora come fa Tamburi Partner? sì come fa Tamburi Partner? come fa First Capital? quello è il senso diciamo se volete un esempio quello è il senso però ovviamente Tamburi First Capital lo fanno già su aziende un po' più grosse mentre noi andiamo a prendere le aziende medio piccole della Initalia andiamo a prendere le start up andiamo a prendere le aziende piccole della piccola media impresa che hanno bisogno di finanziamento anche tramite debito quindi siamo su due livelli diversi però la filosofia il lavoro è lo stesso ma quali settori saranno quelli di punta per Newit? allora noi abbiamo come pilastri fondamentali due pilastri che sono quello della tecnologia e quello dell'ISG però questo ovviamente va va calato nella realtà delle aziende quindi delle singole aziende quindi dentro potrai trovare diverse tipologie di aziende da chi fa i gioielli a chi fa i software purché appunto dipende dalla filosofia manageriale che c'è che c'è all'interno allora come fa Dom te la immaginavi alcuni anni fa i primi video della crescita che avresti avuto? no uno assolutamente no due se andate a vedere i primi video che credo Antonello tu già ciri dai primi video se non mi sbaglio sono tremendi sono terribili c'è una qualità disastrosa un aglio pessimo io imbarazzatissimo impacciatissimo cioè è una sono delle cose tremende ma io infatti li ho lasciati i primi video ci sono ancora lì su youtube e non li tolgo proprio perché stanno lì a testimoniare quello che è stato la storia l'evoluzione che c'è stata molto onestamente quando ho cominciato tutto questo percorso io l'ho cominciato anche come semplice divulgazione non mi sarei mai immaginato diciamo di lì a breve di lasciare il lavoro e quindi dedicarmi a questa cosa più a tempo pieno ma ti dico già un anno fa non mi sarei neanche immaginato di fare un progetto di questo di questo tipo onestamente di passare poi dalla divulgazione a fare di questo tipo di progetti quindi no sono molto contento diciamo sono molto anche come si dice cioè sorpreso da tutta questa da tutta questa evoluzione non me l'aspettavo e adesso come si dice la fame viene mangiando ora l'ambizione è quella di portare Newit a quotarsi a quotarsi in borsa ci metteremo 5-6 anni se siamo bravi magari anche meno però sicuramente dobbiamo arrivare là no 5 anni ce li dobbiamo mettere per forza dobbiamo fare 5 anni riguarda il recupero IRPEF riguarda il recupero IRPEF la percentuale del 30% del 50% e in quanti anni è possibile ottenerli allora oggi la percentuale di detrazione IRPEF è ancora del 50% quindi se investite 1000 euro vi portate a casa 500 euro se investite 10.000 vi portate a casa 5000 euro questo vi portate a casa vuol dire avete la detrazione IRPEF nella dichiarazione dell'anno prossimo quindi quella che fate nel 2022 sul 2021 ok e vi vengono dati in un'unica soluzione quindi non dovete aspettare 5-6-10 anni no vi vengono dati tutti in un'unica soluzione ok quindi questi soldi ve li riprendete nel 2022 praticamente ah stavo dicendo oggi avete il 50% ancora fino a quando con Newit non raggiungiamo 400.000 euro dopo che passiamo i 400.000 euro si ha il 30% ok che rimangono sempre tanti soldi perché investendo 10.000 vi portate a casa 3000 euro rimangono sempre tantissimi soldi mentre se investite come persone giuridiche quindi non come persone fisiche Domenico Michele Giovanni ma investite tramite delle società allora vi prendete il 30% direttamente sulle società non c'è il 50% tra un paio d'anni ci compriamo anche tamburi come guadagnare Stefano che vuol dire se mi fai la domanda più completa ti rispondo non ho capito allora nessuno nasce Alberto Angela si impara facendo e sbagliando ma bisogna imparare e migliorare si bisogna cimentarsi bisogna avere la voglia di fare le cose la determinazione di farle e sono d'accordo con te però nessuno nasce imparato si impara on the job sul lavoro quando ti quote ti darò il mio obolo senza dubbio quindi in poche parole prendi l'investimento e il raddoppiato prendi l'investimento e il raddoppiato Mario se ti riferisci al fatto del 50% di detrazione vuol dire che tu hai un ritorno del 50% garantito dallo Stato come detrazione fiscale in un anno quindi tu investi 10.000 ti ritornano 5.000 che te li metti in tasca quindi tu continui a rischiare tra virgolette su 5.000 euro perché 5 te li hanno ridati però il tuo investimento rimane di 10.000 quindi sì non hai raddoppiato i soldi ma ti sei portato a casa la metà del bottino e quei 10.000 però rimangono lì e continueranno a creare valore per 10.000 diciamo tu è come se riducessi il rischio perché 5.000 ti ritornano già indietro quindi hai il 50% di ritorno in un anno allora come guadagnano gli investitori di New Hit come si guadagna sostanzialmente voi investendo in New Hit state diventando soci di New Hit SRL siete diventati soci di un SRL a tutti gli effetti quindi come guadagnate guadagnate ovviamente dal fatto che questa quota di società che voi avete se la società cresce nel tempo la vostra quota cresce nel tempo come fate poi a monetizzare questa quota si può fare in due modi allora o ad un certo punto decidete di vendere e lo fate se non siamo ancora quotati in borsa lo fate tra privati quindi vendite la vostra quota ad un'altra persona e quindi prendite i soldi oppure se nel frattempo ci siamo quotati in borsa la vostra quota viene trasformata in azioni voi avete quelle azioni e potete decidere di venderle e ottenerle e quindi diciamo il vostro guadagno sta nel fatto che New Hit tramite appunto sia la parte di business sia la parte di investimenti man mano diventa sempre più grande cresce fa soldi e quindi la vostra quota diventa sempre più grande fammi sapere se è chiaro ma viene rilasciata una dichiarazione per la deduzione assolutamente sì la trovate nella vostra pagina di we are starting trovate la troverete dopo tutto quello che vi serve per la dichiarazione andiamo a vedere se abbiamo raggiunto questi famigerati 200.000 oppure no ancora no ragazzi se mancano solo i 500 euro siamo a 199.500 mancano solo i 500 euro per arrivare a a 200.000 qualcuno andasse a investire 500 euro allora sono appena entrato cos'è questo progetto allora per sapere cos'è il progetto puoi vedere sul sito www.newit.online oppure sul canale youtube vivere di dividendi ci sono i video che parlano di di newit ora se non ci sono altre domande magari te lo riepilogo te lo riepilogo subito vediamo se ci sono altre domande prima perché l'abbiamo già detto due volte per giusto per non ripeterlo ma come ottengono il ritorno gli investitori devono vendere quote a terzi sì come stavamo dicendo o tramite la vendita dopo come le normali azioni in borsa oppure eventualmente se tra cinque anni cominciamo a distribuire dividendo voi vi prendete i dividendi perché siete dei suci e quindi vi prendete parte degli utili dell'azienda sostanzialmente proprio come funzionano le azioni uguale qual è l'orizzonte temporale consigliato di detenzione della quota allora l'orizzonte temporale se usufruite della detrazione IRPEF dovete tenere le quote per almeno tre anni obbligatorio altrimenti bisogna restituire la detrazione che avete avuto però ovviamente quello che vi suggerisco se volete fare un investimento come questo l'ottica deve essere quella di tenere queste quote per cinque anni sei anni sette anni e così via almeno fino a quando non si arriva alla quotazione in borsa questo perché ovviamente perché dovete dare il tempo alla società di crescere altrimenti ci guadagnate poco e soprattutto perché quando fate un investimento di questo genere ma anche quando fate l'investimento azionario il vostro arco temporale deve essere un arco temporale di quattro cinque anni sei anni altrimenti non date il tempo alle società di crescere cioè è ovvio è ovvio questo quindi mi raccomando è importante avere un corretto orizzonte orizzonte temporale Raffaele è vero che qua su tiktok non rimangono registrate però siccome questa live ora la stiamo pubblicando anche su youtube se vai su youtube sul canale vivere di dividendi trovi sia questa live sia gli altri video che parlano di new hit ah Nadia scusami dato che chi investe poi risulta socio mi sa che un militare non può ma Nadia lo sai che non la so questa cosa ti chiedo se ti risulta perché non si potrebbe tu non sei un amministratore della società tu sei solo socio quindi non lavori nella società non fai nulla sei solo socio quindi secondo me si può tu puoi essere socio di una srl non puoi avere un secondo lavoro non puoi svolgere attività amministrativa amministrativa nel senso di essere amministratore dell'impresa perché se hai già un lavoro pubblico di 8 ore al giorno non puoi fare un'altra attività però avere delle quote di società dovresti poterlo fare come puoi comprare le azioni in borsa comprare le azioni in borsa vuol dire avere delle quote di società di quella di quell'azienda fare il crowdfunding è uguale quindi diciamo ora non vorrei dire cavolate ma non vedo proprio dove ci possa essere il problema ah eccolo qui Joe ci dice puoi essere su ciò basta che la quota non superi l'1% ok non sapevo di questo limite dell'1% non fate stacco allora ma non fate stacco degli utili quando ci saranno allora dato che siamo una startup innovativa per legge non possiamo dare dividendo per i primi 5 anni quindi per i primi 5 anni non ci saranno i dividendi attenzione dopo i 5 anni possiamo cominciare a staccare i dividendi però ragazzi io ve lo dico già adesso il mio modello ovviamente è il modello Berkshire Hathaway Warren Buffett quindi tendenzialmente vi direi che questo modello qui non ha senso che stacchi i dividendi ok se uno vuole proprio la sua rendita ogni ogni anno vende una parte di azioni è boh però ovviamente è troppo presto per parlare di una cosa di una decisione che ci sarà tra 5 anni quindi è inutile che ne parliamo adesso l'unica cosa certa in questo momento è che per legge per i primi 5 anni non possiamo staccare dividendo sugli utili date cedole o va tutto a capitale è la stessa domanda quindi di nuovo per i primi 5 anni va tutto a capitale quindi niente cedole niente utili dopo i 5 anni vediamo se è il caso di staccare gli utili perché l'obiettivo è 500.000 allora in realtà questo aumento di capitale è fino a 600.000 euro ci siamo dati come massimo 600.000 euro no non abbiamo un limite in realtà infatti se tu vedi il piano industriale lo trovi sul sito www.newit.online vedrai che noi abbiamo stabilito un aumento di capitale ogni anno 2 milioni all'anno per i prossimi 5 anni per arrivare a 10 milioni e quotarci in borsa ok questo è il piano ora questo primo aumento di capitale che è partito ieri praticamente noi non sapevamo bene quale sarebbe stata la risposta a quanti soldi quanti investitori perché non abbiamo la prima volta che facciamo questo tipo di crowdfunding e quindi ci eravamo dati questo range da 100.000 a 600.000 e boh è solo questo è un crowdfunding diciamo di partenza l'anno prossimo nel 2022 apriremo un'altra raccolta di crowdfunding che avrà come obiettivo 2 milioni perché ora il nostro obiettivo è fare 2 milioni all'anno per i prossimi 5 anni ma se compro una quota in che percentuale sono socio dipende da quanti soldi ci metti lo vedi comunque sulla pagina di we are starting dovrebbe fartelo vedere io non posso detrarre perché faccio parte del regime forfettario e ne stavamo dicendo lo stavamo dicendo prima questa cosa in realtà voglio chiedere al commercialista se effettivamente è così perché come dicevamo prima il regime forfettario non ti fa detrarre i costi però tu Antonio l'IRPEF anche se sei in regime forfettario la paghi e siccome questa detrazione è una detrazione IRPEF non sono i costi non è una cosa non riguarda i costi sull'IRPEF secondo me potete anche chi è in regime forfettario prenderla questa detrazione però non sono un commercialista quindi è una cosa che dobbiamo chiedere al commercialista questo investimento va visto con orizzonte decennale secondo me assolutamente sì anche io lo vedo come una cosa che fa minimo 5 anni ma entrare nell'ottica dell'idea di investire per 10 anni è la cosa migliore io per esempio adesso che dobbiamo fare il battesimo a Marta a novembre praticamente metterò tipo lista battesimo le quote di New Hit per Marta proprio perché c'è comprare le quote per i figli è una cosa perfetta perché i figli hanno un orizzonte temporale di più di 10 anni e comprarli per i figli è ottimale secondo me detrae solo chi ha partita IVA assolutamente no detraggono tutti perché tutti quanti noi paghiamo l'IRPEF ti dico che con il forfettario non detrai neanche il versato ai fondi pensione ah ok quindi probabilmente non si può fare vabbè non lo so onestamente non ho chiesto già perché non paghiamo l'IRPEF ma un'imposta ah ok Antonio ok allora Antonio ci conferma che ha già chiesto non si chi è in forfettario non può detrarle ma ci saranno altri aumenti di capitale nel corso degli anni assolutamente sì un aumento di capitale all'anno di 2 milioni ogni anno per i prossimi 5 anni lo trovate era già scritto nel piano industriale c'è sulla pagina sul sito web c'è c'è lo specchietto con tutti gli obiettivi anno per anno sia per gli investimenti sia per l'aumento del capitale sia per lo sviluppo del software ci sono tutti gli obiettivi anno per anno ma tu hai messo dei fondi nella società non voglio sapere quanto ma solo se sì certo sì che li ho messi sì sì li ho messi e li metterò tutti gli anni assolutamente sì allora ah ecco infatti ci arrivano anche investiti oggi il regime forfettario non c'ha l'IRPEF ok ragazzi quindi confermato che il regime forfettario non ha IRPEF quindi non può detrarre nulla ah ok si è addormentata adesso allora ah saranno sempre cose di serie o semplici obbligazioni allora i prossimi microfondiche saranno sempre quote o obbligazioni no saranno tutte quote non faremo obbligazioni non faremo debito ah attenzione ci dicono il forfettario ha aliquota sostitutiva che è simile ma non è IRPEF possono però ugualmente detrarsi se uno ha altri redditi tipo ritenute da conto grazie grazie commercialisti salgono fuori quante persone lavorano quante persone lavorano per Nuit c'è una sede dove lavorate quotidianamente allora nella grotta allora in questo momento siamo due persone che quindi due fondatori io e Daniele io sto a Torino Daniele sta a Roma e le altre tre aziende che collaborano ovviamente ognuno sta a casa sua tra virgolette no Upp Consulting stanno a Milano Cryptalia oggi stanno a Bergamo Brescia non mi ricordo mai che cosa è Bergamo dovrebbe essere We Are Starting lo sai che non so dove stanno non mi ricordo la grotta no saranno ma sono vicino a Milano We Are Starting non stanno a Milano niente la sede è quella dove sto io e quella dove faccio i video è quella lì è casa mia è osside mio eh sì non c'è manco una sede sua gli aumenti di capitale sono da intendere come diluizione delle quote socioesistente assolutamente sì però ragazzi fate attenzione perché non è non ha lo stesso effetto che voi avete quando c'è un aumento di capitale su una società che fa business che fa solo business è diverso attenzione cerco di spiegarlo velocemente allora se voi avete facciamo l'esempio quello più estremo così magari si rende l'idea se c'è una società che tutti gli anni perde soldi ok e fanno un aumento di capitale fanno un aumento di capitale perché hanno bisogno di soldi perché bruciano soldi e quindi devono pagare i costi e quindi hanno bisogno di altri soldi quell'aumento di capitale è un aumento dell'eterio per l'investitore e rientra nel campo della diluizione di cui ci sta parlando Antonello ok va a diluire le tue quote l'azienda continua a perdere soldi quei soldi vengono investiti per coprire i costi ed è una cosa che non va bene per l'investitore ok nel nostro caso invece no è esattamente il contrario i soldi degli aumenti di capitale quei soldi vengono investiti per comprare altre società quindi ogni aumento di capitale i soldi raccolti non vengono bruciati ma ogni aumento di capitale l'azienda diventa più grande Newit diventa sempre più grande quindi è vero che tu vieni diluito però hai una percentuale più piccola di una torta più grande spero che sia chiaro questo concetto quindi alla fine nel nostro caso di Newit l'aumento di capitale non ha nessun effetto negativo sugli investitori fatemi sapere se è chiara questa cosa fa tanta differenza se anche tu sei nel capitale di rischio mi fa piacere e non è una cosa scontata no assolutamente cioè ragazzi questa azienda l'ho voluta io l'ho fondata io l'ho fatta fortemente io e la voglio portare la voglio la voglio portare in in borsa cioè è la mia è la mia holding gli aumenti di capitale verranno fatti sempre tramite piattaforma we are starting non mi è chiarissimo come funzionerà tendenzialmente sì tendenzialmente useremo we are starting dato che è partner quindi come come diciamo e oggi faremo ogni anno un aumento un aumento di capitale che permetterà a tutti voi di di investire non escludo il fatto che per esempio collaborando con una sim tipo scm sim cfo magari first capital e così via si potrebbe fare anche un aumento di capitale che non va sulla piattaforma crowdfunding ma è privato ok però anche qui diciamo per gli investitori non cambia niente e per tutti voi per tutti quanti per diciamo il pubblico generico comunque faremo sempre un aumento di capitale all'anno sulla piattaforma we are starting quindi senza senza nessun problema allora fate corsi di formazione per consulenti finanziari no non ancora è una cosa che avevamo pensato ma non l'abbiamo ancora fatta però ti direi non è una cosa prioritaria in questo momento quindi non ti dico che lo faremo a breve perché no non lo faremo a breve ma se raggiungesse la quota prefissata di 600.000 euro i soldi degli investitori che fine fanno fanno la stessa fine dei soldi che ci sono adesso dei 200.000 dei 300.000 dei 400.000 che raccogliamo uguale quindi quei soldi tutti gli investitori stanno facendo oggi un bonifico ad un conto corrente che è intestato a Newit ok quindi una volta chiusa la campagna quei soldi li prenderemo li passeremo sul broker che ci permette di fare gli investimenti e verranno investiti mi sono perso tutto puoi fare uno riassunto allora guarda più che farti un riassunto dico su youtube abbiamo fatto dei video su Newit specifici su Newit sono due o tre video uno che dice che cosa è Newit e che cosa fa uno che spiega come funziona la detrazione i vantaggi della detrazione e l'altro non mi ricordo comunque trovi i video su Newit oppure ti puoi riguardare questa live magari metti a velocità per due e te la rivedi però se vai qua su youtube li trovi poi sono i video che abbiamo fatto da un mese a questa parte quindi ce ne sono due o tre che parlano di Newit oppure sul sul sito www.newit.online e ci salutiamo con questo Newit to the moon grande allora ragazzi vediamo se siamo riusciti ad arrivare a 200.000 euro o no cioè è incredibile in un'ora non abbiamo trovato una persona che andasse a mettere 500 euro di investimento per arrivare a 200.000 siamo ancora a 199.500 scandaloso ma se volessi avere una tua consulenza per consigliarmi su come gestire il mio portafoglio allora la consulenza finanziaria la facciamo però per i patrimoni superiori a 50.000 euro in realtà noi siamo specializzati per la gestione patrimoniale diciamo di patrimoni più grandi quindi superiori a 500.000 euro però dato che siamo qui anche sui social abbiamo deciso di fare un minimo di 50.000 euro sotto i 50.000 euro c'è il portafoglio quello che potete copiare gratuitamente sui tuoro appunto è gratuito potete copiarlo lo gestiamo sempre noi però la consulenza la facciamo sì però sopra i 50.000 euro ci puoi contattare o via email oppure sul sito viveredividendi.it c'è la pagina dedicata alla consulenza e al fondo pagina c'è il modulo per i contatti ragazzi veramente non c'è nessuno che mette 500 euro qua per arrivare e darmi la soddisfazione di vedere 200.000 prima di andare a dormire no non c'è va bene niente non siamo riusciti ad arrivare a 200.000 euro siamo ancora 199.500 però va benissimo così io vi ringrazio di nuovo tutti perché veramente non me ne aspettavo che riuscissimo a fare una raccolta di 200.000 euro in due giorni tra ieri e oggi abbiamo raccolto 200.000 euro quindi veramente fantastico grazie per la fiducia grazie a tutti quota minima 500 euro sì quota minima 500 euro sarà un bel viaggio sarà un bel viaggio insieme ragazzi le ultimissime domande che chiudiamo la detrazione IRPEF la posso fare anche con regime forfettario no l'abbiamo appena scoperto stasera non si può fare con regime forfettario ciao è da poco che ti seguo Nuit potrebbe essere una buona idea per iniziare allora Nuit è una buona idea se tu vuoi fare un investimento che abbia un arco temporale di come minimo cinque anni se non di più quindi o per te o magari vuoi fare un investimento per i tuoi figli che quindi gli prendono i soldi tra dieci anni allora sì può essere una buona idea io ti ringrazio sono sotto i 50 mila euro perciò ti contatto via mail e no se sei sotto 50 mila euro puoi tranquillamente andare a guardare il portafoglio che abbiamo pubblico su Ituro trovi il link sotto nella descrizione dei video di youtube c'è il link del portafoglio di Ituro quel portafoglio lo puoi copiare gratuitamente li metto io se mi spieghi come allora per investire si va sulla sulla piattaforma di we are starting ehm grazie Grazie a tutti. 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 A domani, ciao.